La casa accoglienza a Betania, a Serra Marina, presso Metapondo, viene commentato dal consigliere di Basilicata Positiva IV come un importante segnale per avviare un serio processo di integrazione a favore dei tanti lavoratori di colore che vivono e operano nelle campagne in condizioni di non dignità. L'esempio di Betania, sottolinea il consigliere presente all'inaugurazione, non solo va condiviso, ma portato in altre difficili realtà, come ad esempio Scanzano e Palazzo San Gervasio. Risorse e più volontà devono costituire l'importante connubio per innescare e completare il processo di integrazione sociale nella realtà basilicata. Solo con queste iniziative mirate e ammirate si pone un argine alla diffusione della malavita. Condiviso da quarto anche la metodologia che fa leva sulla sinergia, è importante porre in essere iniziative sinergiche e coordinate, afferma, tra tutte le forze istituzionali locali per venire incontro, come ha fatto la diocesi di Matera, proprietaria della struttura, alle persone più deboli e fragili. Le sfide contemporanee dell'immigrazione, conclude quarto, ci devono vedere tutti coinvolti. Dialogo e collaborazione ci permetteranno di mettere al bando la felandina, che ha rappresentato una sconfitta per tutti. alto un'unificazione ci educa, genere, per tutti. Il periodo è importante per questo che si taglia, è molto grande perché non si sukare. Grazie.